Imparate a fare il bene, la conversione e la sporchizia del cuore non si toglie come si toglie una macchia che andiamo alla tintoria e usciamo puliti. Si toglie col fare, fare una strada diversa, un'altra strada, quella del male. Imparate a fare il bene, cioè la strada di fare il bene. E come faccio il bene? È semplice. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Ricordiamo che in Israele i più poveri, i più bisognosi erano gli orfani e le vedove. Fate giustizia a loro, andate dove sono le piaghe dell'umanità, dove c'è tanto dolore. E così facendo il bene, tu laverai il tuo cuore.